Io ho visto un video senza neanche credo audio, in maniera velocissima e ho riso semplicemente di quel maggiordomo zelante che era Archinà, della sua corsa, di quello che io chiamo un guizzo felino, uno scatto felino, sembra un po' Ridolini, punto, fine della storia. Fra l'altro nella telefonata a un certo punto ho paura che Archinà abbia capito che in realtà è di lui che ridevamo, non di altro. Presidente, un bel guizzo felino per i problemi di Taranto, questo sì, lo dobbiamo fare. Noi ci abbiamo provato, spero che anche il sistema informativo si sia reso conto di essere stato per troppi anni silenzioso, diciamo, nei confronti dei poteri reali di quella città. Presidente, teme un calo di consensi anche all'interno di Selle, una fiducia diminuita? No, ma almeno, intanto ieri si sono svolte le elezioni in Basilicata e Selle ha guadagnato oltre il 5%, diciamo, siamo andati meglio delle previsioni. Quindi non temo questo, però francamente non stiamo parlando di un 0% in più, qua stiamo parlando della mia vita, di uno che per tutta la vita si è battuto, si è battuto per i diritti dei lavoratori e per cambiare, diciamo, un'Italia pigra e omertosa sulle questioni ambientali. Grazie a tutti.